Dopo l'indagine condotta in passato, l'Associazione Consumatori Altro Consumo è ritornata ad indagare il fenomeno del turismo odontoiatrico, un fenomeno causato dei prezzi troppo alti da sostenere per le cure odontoiatriche in un momento in cui le famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e le distanze con Corazia e Albania si sono accorciate grazie alle offerte delle compagnie aeree. Ma professionisti italiani chiedono di fare attenzione. Sì, c'è questa concorrenza spetata, è giusto che ci sia, solo che c'è un problema, perché in Albania, Croazia e Bulgaria, ci sono Romania, insomma, vanno tutti questi viaggi per le cure dentali, solite che c'è un problema, non c'è la tracciabilità dei materiali, la maggior parte delle volte succede questo, ho riscontrato questo, perché sono dei bei lavori esteticamente, tutto, ma a distanza di tempo ho riscontrato delle problematiche, ascessi, insomma, delle perdite di alcuni pezzi di ceramiche che sono, chiaramente fanno parte di questi ponti, quindi chiaramente non sappiamo la tracciabilità di questi materiali. Noi abbiamo una certificazione su tutti i materiali, tracciabilità, insomma, in Italia c'è, la Comunità Europea prevede che c'è la tracciabilità. Lì purtroppo no, c'è un risparmio di circa il 50%, solamente che c'è questa piccola inconvenienza, ma non puoi neanche, chiaramente, criticarlo, oppure non possono neanche lamentarsi i pazienti, perché quando poi ritornano per fatti loro, magari non c'è poi questo viaggio, non viene garantito il lavoro, quindi lo fanno loro, il secondo viaggio, per contestarlo, e purtroppo viene rifiutato il paziente. Invece noi diamo garanzia oltre due anni. Quindi l'appello da fare è massima attenzione, non farsi ingannare da un prezzo. Purtroppo sì, quindi in Italia si costa di più, solo che c'è la garanzia e possiamo chiaramente garantirlo a vita.